Ciao a tutti ragazzi, sono Kyure e oggi siamo in un nuovo video serale di Mv3 Volevo iniziare questa nuova rubrica, tra parentesi serie, di video serali senza tagli a scazzo insieme a Serrigos Ciao a tutti ragazzi! È ubriaco, lasciatelo fare Vedete che non c'è la facecam semplicemente perché questo video appena finito di registrare sarà subito pubblicato, quindi è un senza tagli ragazzi faremo giusto una partita, un team deathmatch a Mv3 ogni sera ditemi sotto nei commenti che video volete che vi porti a sera non c'è editing, non c'è niente proprio molto scialli tranquilli così giusto per stare un po' tra di noi, parlare, fare quattro chiacchiere un po' come la rubrica dei giochi del vlog serale solo che appunto stavolta c'è il gioco, finalmente Dicemi se a Serrigos, scusa C'è un piccolo problema, l'ho messo in pieno, eh Fog non è pieno standard Eh allora Eh, mi trovo male Ah Mentre che sarà la mia secondaria, ho fatto nulla Ragazzi, scusate Ragazzi, spacco dei vasti Nooo, mi ha fermato Uno col cecchino poi, oh ragazzi Veramente Allora, questa rubrica, eh, vabbè Sì Sono video senza tagli Quindi molto tranquilli, diciamo Ehm Cosa dirvi, cosa possiamo parlare in questo video? Boh Non ho la più pallida idea Non ho idea su che argomento di conversazione fare E quindi non facciamo un cazzo Oh no Sì Doppia No, singola Ok No, ragazzi, scusate Piccolo momento di silenzio Ma mi stavo un attimo concentrando Sulla partita Allora Ehm Boh, 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 boh Ok, morto Lì secondo me c'è qualcuno però Eh infatti Torretto Sam Piazziamo la torretto Sam No, dietro, no Dietro no Mi hanno inculato Gala Mi hanno inculato Senri Senri Ti chiamo adesso Allora Visto che sono contento Comunque Dai, diciamo che facciamo Molte collaborazioni Senrigos Puoi dire Se vuoi Il nome del tuo nuovo canale in diretta Se vuoi O se vuoi dirlo nel tuo canale Fai tu Eh, la verità non saprei ancora Quale sarebbe il nome principale Però Ragazzi vuole fare solo recensioni Pochi gameplay Pochi gameplay Passa a recensioni Sono molto tecnico Come spiegazione Cioè sono in modo tecnico Quindi voglio buttare recensioni Sì, non ti fate che gameplay Però ha più recensioni Che gameplay ragazzi Mi log Tutta la parte noiosa Però la faccio divertente Nel mio stile Tanto doppia per me Diciamo Tra parentesi Eh, la fa dei bobbacci Oddio L'ho ucciso L'ho ucciso Quando sono stato flashato Non vedevo un cazzo Spalato a casa E' morto Non ci credo Vabbè Comunque Serrigo Se appunto Porterà Recensioni Veramente Comunque Devo dire Che è bravo E' molto tecnico Poi Poi Vabbè V-log Doppio Tripla uccisione V-log Sì Eh, qualche gameplay Tutto per Dai Non stancare troppo Il canale Esatto Cioè, esatto Ragazzi C'è un pubblico Tanti video Perché A parte il principio Non si sta Andando a puttanea Diciamo che Le recensioni Comunque Come tipologie Di video Sono abbastanza Pesanti da fare Il fatto di editing E cose così Perché Deve mettere Sotto l'immagine La scuola guida È scuola normale Faccio un po' fatica Adesso la lavorazione Settimana Iniziano a fare il boom Quindi Non farò proprio Quello al giorno Se ce la farò Quello Favre Sto aspettando Che finisse la scuola guida Così più tempo Più pomeriggio In Natale Che così Posso fare Qualche voglio Ragazzi Tornando all'ottimo Gameplay Sto fanno a strage Sto facendo Una strage Sto facendo Un punteggio Di 26-11 Ti rendi conto? Mi rendi conto 13 La merda Sto che senza Merino Se metterli in Merino Normale Cazzo Ok meglio che porti Le recensioni Allora No vabbè Non ci vedo più Cazzo Sono tutto rosso Ok ragazzi Partita vita Siamo arrivati Anche al termine Di questo video Sarà ragazzi Se il video vi è piaciuto Fatemelo capire Con un bel pollice In su Per magari dare Una mano Per questa serie A salire Ditemi sotto Anche sempre Nei commenti Che gioco Volete che vi porti La sera Per un episodio Molto a scazzo Intanto ho fatto 28-11 Mamma che pro Non è vero Lasciate iscrivetevi Passate la pagina Facebook e Instagram Che come il video Lascia in descrizione Lascia anche Il canale di Serrigo In descrizione Che lascia a lui Il saluto Ciao Ci si becca Al prossimo video Never Back Down